Ditemi voi come non si fa ad amare questo Bologna, un Bologna che ha avuto la meglio sull'Inter nella partita di ieri e ha impedito insomma al re di coppa Simonin Zaghi di proseguire nella Coppa Italia quindi in questo video voglio veramente fare un'analisi un po' approfondita soprattutto in merito al Bologna perché è un tema che sul canale in ultimi giorni sta andando per la maggiore perché comunque Tiago Motta veramente sta portando questa squadra a un livello nettamente superiore e quindi voglio fare un'analisi un pochino non dico della partita però comunque della prestazione del Bologna stesso perché alcune intuizioni di Motta, alcune interpretazioni insomma trattiche della partita sono state interessanti e poi insomma voglio parlare anche dei singoli perché voglio prendermi un pochino di rivincite diciamo così perché vi spiegherò insomma dopo nel proseguito del video un Bologna che comunque ha iniziato bene la partita contro un Inter insomma volente rosa che è sceso in campo non dico con le riserve perché comunque sarebbe molto in grato a fibbiare insomma il titolo di riserve a questi giocatori qui insomma quelli dell'Inter però un Bologna che nonostante non abbia creato molti in avanti comunque ha saputo tenere botta e questa è la prima cosa nel secondo tempo è creato evidentemente il Bologna però poi nei supplementari si è ripreso in modo veramente clamoroso soprattutto con l'entrata in campo un po' dei titolari quali Calafiori, quali Indoi e quale appunto lo stesso Zirk Zee e appunto volevo partire da questo Bologna da questo Bologna perché tra le intuizioni di Motta e il valore di alcuni giocatori che stanno insomma crescendo molto questa realtà insomma si sta imponendo in modo veramente importante in questa Serie A e in questo calcio italiano e reputo il Bologna veramente una bellissima storia una cenerentola che si sta veramente rivelando una bellissima donna e in primis voglio concentrarmi, voglio parlare di Ravaglia qui voglio dare anche molto del merito sia al ragazzo ma anche all'allenatore perché comunque Ravaglia è sempre stato il secondo di Skorupski comunque un portiere classe 99 che comunque è giovane di età per essere un portiere quindi non fate errore di dire vabbè ma va per i 25 anni perché per un portiere 25 anni è come un giocatore di movimento a 21 e diciamo che qui Motta ha deciso di dargli un'opportunità al ragazzo perché comunque si stava allenando bene si stava comportando bene nelle sessioni di allenamento e quindi Motta ha deciso di dargli fiducia e dopo la partita contro la Roma anche ieri si è fatto grandemente valere in primis per la parata su Frattesi, bellissima senso della posizione, istintività, capacità di andare giù col corpo di allungarsi, forza nelle gambe, forza nei reni veramente una parata molto interessante su un tiro molto pericoloso e poi il rigore di Martinez perché è vero che Martinez non ha tirato benissimo ha tirato un po' di buluccio ma ragazzi anche qui Ravaglia è andato veramente basso in modo clamoroso in modo ottimale per un portiere molti dicono se un rigore viene sbagliato è più che altro demerito dell'attaccante sì, però è anche vero che il portiere deve avere una capacità di lettura avere una capacità di studio del rigorista ovviamente come in tutte le cose la componente fortuna è essenziale quindi Ravaglia poteva anche buttarsi in modo stupendo ma se all'ultimo Martinez cambiava direzione roba che veniva spiazzato però insomma veramente un Ravaglia ottimo e secondo me potrebbe fare in tono maggiore anche un pochino il percorso di Falcone Falcone è stato promosso titolare tardi mentre Ravaglia insomma ha 25 anni neanche qui è tutto un futuro davanti e secondo me se fosse Bologna onestamente se Ravaglia dovesse portare avanti queste prestazioni io prenderei in seria considerazione il fatto di puntare su di lui e magari di andare a monetizzare con accessione di Skrubski perché un portiere come il Polacco comunque sicuramente sarà molto ricercato sul mercato e quindi se posso avere un gioiello in casa come Ravaglia me lo vado a sviluppare e vado a cedere Skrubski in difesa in difesa mi voglio soffermare sulla prestazione di Brokema io nel video di presentazioni che vi feci 5-6 mesi fa quando insomma venne effettuato il suo acquisto ricordo per 7 milioni e allora 7 milioni per questo giocatore sono veramente briciole io lo definì un capolavoro di Sartori perché era il classico colpo da Sartori e il Bologna qui ha giocato bene ha lavorato bene soprattutto sulla mobilità del giocatore perché lui quando si trasfida dal Goet Eagles scusate dall'Alkmar al Bologna aveva questa corsa molto pesante molto piantata a terra il Bologna l'ha saputo un pochino sgrezzare facendo un determinato lavoro fisico e non mi sorprende che si trovi benissimo con Calafiori perché Calafiori ha quel tipo di letture totalmente diverse da Brokema ma che comunque sono molto complementari quindi Brokema ha un ottimo piede io lo definì nel video un mediano dal passo non eccezionale quindi ha spostato in difesa consente a Brokema di giocare in un certo modo di non coprire una porzione di campo clamorosa in modo che lui magari possa andare un attimo in difficoltà perché comunque è vero che hanno lavorato benissimo ma non è un formaggio di guerra mentre Calafiori insomma è uno che dà velocità che dà sprint che si salza nel momento adatto e Brokema dopo un po' di difficoltà iniziali che sta dimostrando delle capacità che vi avevo anche detto nel video ma le sta comunque confermando veramente un giocatore che sta crescendo partita dopo partita dopo un inizio appunto un po' me ha capito i ritmi ha capito i tempi di gioco e soprattutto in fase di lettura in anticipo dei traiettori è veramente uno dei top in Italia perché vi dissi dissi nel video dove non arriva con la velocità arriva col movimento in anticipo sta tranquillamente sviluppando sta portando avanti questa caratteristica e appunto con Calafiori che conferisce alla difesa del Bologna più rapidità più sprint su breve e sul lungo e Okbeokema si sta rivelando un acquisto devastante in più Fabian Fabian è schierato come mezza punta lui che fondamentalmente è una mezzala pura ma ragazzi lui io penso che a Udine si stiano mangiando i gomiti d'accordo è rimasto Samarzic però hanno perso Fabian e Fabian già in B mostrava delle caratteristiche stupende e ieri veramente ha giocato benissimo secondo me di cattivella di lettura di di visioni di gioco di capacità di interpretare il ruolo questo doppio ruolo diciamo così tra l'altro il quartista e mezzala quindi io onestamente mi sento semplicemente di elogiare il giovane ex Inter in più è un giocatore che è classe 2003 un 2003 così come lo è ad esempio mi retta la Juventus ma la pasta è totalmente diversa totalmente diversa come approccio ovviamente sono diversi giocatori diversi lo stile di gioco diversa la posizione in campo più o meno però comunque è il piglio no? è il piglio Fabian quando va sul pallone dà sempre la sensazione di poter creare qualcosa mentre Miretti no Miretti è un giocatore che interpreta bene il ruolo che sa adattare il pallone ma gli manca sempre quel centesimino per fare l'euro se Fabian dovesse riuscire a trovare confidenza con il gol da mezzala o da trequartista che sia ragazzi questo qui può diventare tranquillamente un top player italiano perché Fabian se l'Inter anche si mangia largamente i gomiti ora non mi ricordo se è in prestito con diritto in prestito definitivo non so mi sfugge questa cosa ma l'Inter secondo me questa Inter in questo centrocampo magari ok però nel prossimo futuro ecco che mettiamo caso che per mille motivi l'Inter si trovi costretta a cedere barella per motivi finanziari ecco che se è ancora un Fabian io ti prendo ti metto lì ti faccio crescere perché sei un grandissimo giocatore caro Fabian e dopo il penultimo giocatore sul quale mi voglio concentrare è Joshua Zirkze che come punta a me non ha mai convinto non l'ho mai nascosto nei video anche nei messaggi privati che mi arrivavano su Instagram come in primo punto non l'ho mai convinto e ho sempre detto se si vuole trattare Zirkze come vice Arnautovic nel senso sfruttarlo come animale da aree di rigore si è sbagliato tutto tutto perché Zirkze non è quello Zirkze è un io cioè secondo me lo vivevo tanto come tequartista anni 90 dal fisico capacità balistiche o meglio tecniche fantastiche con destra e con sinistra l'ho dimostrato ieri durante sul gol di Ndoje quindi uccellando facendo un turno da Cerbi di sinistro quando lui è destro però insomma lui se è utilizzato in quel modo diventa uno spacca partite e si adatta bene con questo tipo di trequartisti più con Ferguson che con Ndoje che con Fabiana scusate perché Ferguson è uno che attacca lo spazio mentre Zirkze è uno che lo crea perché ti sposti difensore avversari e Ferguson boom si va a mettere in mezzo e Fabiana deve imparare un pochino questi movimenti a Ferguson imparati quelli diventa un top player italiano Zirkze insomma sulla spalla sulle spalle dovrebbe avere il numero 10 perché lui è quello un giocatore interessante in quella posizione un potenziale futuro campione non dico campione perché insomma ci voglio andare un pochino con i piedi di piombo su di lui ma come su tutti i giocatori ecco magari non su Bekema perché è già un 98 ma su di lui che sta facendo un processo di crescita graduale fondamentalmente è la prima vera stagione in Italia che sta facendo veramente bene dopo la prima col Bologna dopo con il Parma ha avuto la sfiga anche dell'infortunio al ginocchio però comunque è la prima vera stagione importante in un calcio che conta quindi ci voglio andare un pochino con i piedi di piombo ma un Sirze così anche lui nella posizione da 10 veramente un top player e poi voglio anche sottolineare Ndoye Ndoye che ieri in telecronaca poco prima del gol è stato detto e non ha mai avuto fin con il gol beh insomma questa stagione si sta un attimino si sta un attimino in difficoltà ma analizziamo un fatto di Ndoye lui segnava sempre tanto ha sempre segnato tanto questa stagione no ma ha avuto la forza mentale per non abbattersi lui ha sfruttato altre sue caratteristiche la velocità il saltare l'uomo quindi a livello caratteriale il giocatore c'è e io penso che dopo questo gol di ieri molto bello anche perché lo scavettino è stato intelligente io penso che si possa essere sbloccato anche Ndoye se si sbloccano Ndoye tanta bella roba tanta tanta bella roba ovviamente lui poi ha giocato a destra è il discorso che poi li verrebbe dirottato a sinistra perché poi Orsolini giocherebbe a destra ma comunque lui ha giocato in entrambe le posizioni quindi sia a destra che a sinistra dietro la punta quindi insomma non penso proprio che abbia un calo prestazionale e lui ha dimostrato tenacia e carattere nel non incattivirsi nel non incaponirsi sul voler segnare ma si è messo sempre a disposizione della squadra se Ndoye trova anche il gol ragazzi tutte possibili future plus valenze per il Bologna e attenzione sotto l'ultimo video del Bologna molti hanno detto parlando insomma anche di Calafiori Calafiori già è una grande squadra tifosi del Bologna è giustissimo che voi pensate quello ogni cosa deve essere fatta step by step io la cosa che penso è che se poi il Bayer Monaco dovesse far valere quella non io con l'opzione però quella facoltà di riprendersi Zirze il Bologna rimarre buccellato quindi eventualmente anche se Ndoye dovesse esplodere anche se Ndoye potrebbero esserci interessamenti qui con te su Sartori perché Sartori è uno che ti tira fuori così iconi dal cilindro a meno che non venga a nascere un processo stile Atalanta e quindi insomma viene anche ad aumentare l'importanza del brand del Bologna del progetto Bologna che induca giocatori come Zirzee come Ndoye come Beuchemà a rimanere a Bologna per 3, 4, 5 anni e diventare i vari Muri i vari Zapata i vari Deron i vari Froyler per Atalanta i vari Scalvini i vari Jim City i vari Palomino e questi qui i vari Atteborg insomma i vari Muriel quindi il Bologna ha questo di fare aumentare questa sorta di brand di importanza nel calcio italiano una progettualità che porti il Bologna più su che in mezzo alla classifica aumentato questo secondo me molti giocatori pensano ci pensano due volte prima di lasciare Bologna e poi Motta Motta tanta roba tante letture non voglio dire niente su Motta perché ho già fatto un video dedicato tanta roba una cosa che mi sono tolto di dire è che parlando appunto di Motta all'inizio video un'interpretazione tattica la difesa ha saputo schermare soprattutto nel primo tempo l'attacco interista l'ha annullato e perché? perché l'attacco interista viaggia molto sugli scambi sullo stretto sugli scambi sul lanciare il pallone in profondità non ce l'hanno fatta perché le maglie erano molto strette quando tu giochi a maglie molto strette con giocatori intelligenti che vanno ad anticipo tipo ad esempio appunto Beokema come Fabian che è veramente un box to box clamoroso quelle maglie quelle poche maglie che ti si vengono a creare non le sfrutti quindi ottima lettura ottimo approccio tattico del Bologna due parole sull'Inter infine a fine video insomma anche perché stai venendo veramente tanto però non veramente lungo il video però non posso esimermi da di questo Bologna ma appunto riguarda l'Inter nelle varie live su Calcio Amarcore TV un'altra volta cito il mio amico Salvatore Boemi siamo su assassina d'onda sul fatto che l'Inter non abbia l'attacco per tutte le competizioni l'Inter è forte nei titolari in attacco ma non nei riserve zero al cuoto non per caso l'Inter sta cercando via dalla Sernitana perché comunque sia Arnautovic che Sanchez sono più morti che vivi l'abbiamo visto anche oggi Arnautovic ha fatto veramente poco e qui voglio dire e collegandomi anche a un a un probabile inforto di Martinez si parla soltanto di affaticamento ma comunque da valutare perché se è un affaticamento fosse anche una microlesione ecco che l'Inter si verrebbe a trovare in grosse difficoltà perché se all'Inter viene a mancare Martinez Turam l'Inter perde il 50% della forza in attacco e molti voi diranno e vabbè ma tutte le squadre dipendono dall'attaccante sì è vero ma se è il il top attaccante ma dietro è sostituti all'altezza che non giocano come un attaccante titolare ma ti sanno sopperire all'assenza Sanchez e Arnautovic non sanno minimamente sopperire all'assenza o di Turam o di Lautaro Martinez o di entrambi e con tutto rispetto verso Martinez e verso scusate verso Arnautovic e verso Sanchez ma Arnautovic è un 89 che va per 35 anni con tutti i problemi fisici Sanchez è un 88 che va per 36 anni ha avuto quel problema se non ero al sangue inizio stagione poi dichiarato guarito insomma si parla di un livello di attaccante titolari e di riserve ma se troppo troppo ti viene a mancare l'Auto Martínez che è la la masterclass italiana il calcio italiano in attacco mi domando l'Inter aveva ancora la forza la potenza di fuoco per affrontare ad alti livelli Serie A Champions League non lo so onestamente ecco appunto perché l'Inter dovrebbe tornare sul mercato per un attaccante a gennaio spero di aver detto tutto e fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate più che altro spero di aver detto tutto di quello che avevo in mente perché tutto salvato qui niente scritto quindi ripeto fatemi sapere voi cosa ne pensate vi mando un bacione e ciò al prossimo video ciao ragazzi